Giora, che cos'è questa creatura? Pare che tu la conosca bene. In realtà, fin troppo bene. Io e mio fratello eravamo cacciatori. Un giorno inseguivamo una preda per il lago Dracar, un luogo che la nostra gente di solito evita. Trovammo qualcosa. Lo senti, Giora? C'è qualcosa nell'aria. Sento solo un freddo più profondo di ogni tormenta. Sì, fa freddo, ma mi pervade anche un'aura remota, antica e potente. Questo luogo è maledetto, Svanir. Andiamo via. No, basterà un incantesimo a rivelare la natura di questa forza. Non so con cosa entrammo in contatto, ma le sue energie quasi ci consumano. Mi opposi alla forza e fui colpita da una maledizione. Non posso più fondermi con la natura e trasformarmi in orso. Mio fratello accolse la forza e impazzì. Si trasformò. Divenne la creatura tutto come lo tenuto. Mio fratello ora saccheggia gli insediamenti dei Norn. Mi evita anche se lo seguo. Ho parlato con lo spirito dell'orsa. Desidera che mi aiutiate. Vuoi aiuto per trovare tuo fratello? No, aiutatemi ad ucciderlo. È abbastanza che mi aiutete.